Let's go! Partiamo? Buongiorno! Brutto orario! Adesso mai più! Cosa dite? Come non farvi vedere questo esemplare? Sì? Vogliamo dirla tutta? Bene! Ve lo svelo pian piano! Tre questa fantasia! Sapete che abbiamo anche, facciamo vedere Cate, sparisco dal video un attimo, abbiamo anche quest'altra maglia per chi volesse magari un qualcosa di più o meno smanicato. Questo è bellissimo il nostro top lo sapete a 59 euro con un incrocio diverso. Mettiamo qui così abbiamo ne abbiamo ancora alcuni possiamo fare ancora i vari abbinamenti e tra le altre cose me ne viene in mente un'altra stai lì? Eh ma la vostra Gabri? Mi vedete? La vostra Gabri è arrivata da pochissimo! Sono stata al nostro Medin Brescia, appoggiamolo qui poi lo prendo e lo porto di una. Con i nostri stupendi Anto e Witt programmare tutto quello che sarà l'autunno e inverno! Sì bella questa cosa! Ci siamo un po' mi hanno un po' coinvolta nelle modellature e sarà quel che sarà! Quanta acqua passerà sotto i ponti? Vedremo! Devo correre ragazze perché ho delle tempistiche in cui voglio stare in questo video. Abbiamo uno stand con dei capi a 30 euro e capirete perché perché sono arrivati questi capi in jersey quindi gonna e top che adesso vado a svelare i colori le fantasie e il prezzo questa meraviglia delle meraviglie è bellissima portata anche qui perché come vedete acquistate questi due pezzi o questo con questo fate quello che volete avete acquistato questo tailleur che ha il pantalone sbragato alla gonna palloncino al pantalone a trombetta al pantalone a sigaretta avete la giacca nell'armadio la prendete e dite ma pensa a te quanto è bello questo completo bene ora la mostro in tutta la sua bellezza che dire se non che è una meraviglia adesso facciamo il dettaglio la nostra giacca sapete che è meravigliosa oramai la portiamo da qui all'estate io l'ho portato così quindi gonna indosso una 42 potrei mettere anche la 40 insomma il jersey si fa un po anche la 44 volendo chi di voi magari non vuole la gonna troppo inciucciata questa non lo è assolutamente vedete che ha una forma stupenda e meravigliosa questo colore è fotonico fantastico non so cosa dirvi la possiamo portare anche scesa vedete di voi la vuole portata scesa non ha nient'altro da fare che lasciare la culis che poi diciamo la guarnizione che abbiamo messo al nostro bellissimissimissimissimissimo abito che come immaginavo ha spaccato non abbiamo più tutte le taglie è rimasto rosso nero e lo indosserò adesso lo indossa il nostro manichino meraviglioso femminilità all'ennesima potenza così come mi sento con questo bellissimo completo vedete il fatto di è messa come prima a te sì perché prima me l'ho guardata semplicemente allo specchio questo motivo questo accompagnare i fianchi che io sono anche un po mediterranea e li ho li ho pronunciati bene 59 euro il top 69 euro la gonna ok poi scegliete voi che cosa fare cosa abbinare cosa mettersi sopra qui davvero secondo me bisogna partire con il completo che sia questa o questa non so se ci manca qualche taglia ma a scelta potete farlo sicuramente l'ha portato con la giacca perché alla fine vedete che un accessorio meraviglioso a 39 euro beh fa la differenza potete anche pensare di andare a una cerimonia ma insomma quando avete questi capi nell'armadio ma adesso all'estate ovviamente io ve lo sto presentando così ragazze una ginica un infradito un bel sandaletto dorato argentato fate quello che volete ragazze quindi questi abbinamenti sono molto ma molto ma molto facili passiamo di là e facciamo vedere lo stand scontato gli altri colori e poi se ci rimane il tempo facciamo vedere i nostri manichini stupendi non avevi dei saluti da fare eh lo faccio l'amore perché ho tutto scritto la quindi sì 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 adesso andiamo faccio anche dei saluti mi è venuta in mente questa perché voglio andare ad abbinare su un'altra cosa dimmi Cate non lo stavo ah niente ma anche di questo il tessuto il colore può essere casuale eh sicuramente sì deve essere casuale e adesso lo andiamo a mostrare facciamo così dai eh questo è qui vicino lo andiamo a mostrare qui quindi casuale cosa vuol dire a cosa si sta riferendo beh Cate però un primo piano su questo gioiello lo vogliamo fare di che gioiello sto parlando questo gioiello per la vita guardate madre perla allora sono tutti disegnati a mano tutti montati a mano eh con pietre semi preziose mi dici Cate il prezzo che non ho controllato dove trovate questi prezzi ragazze li trovate sulla voce catalogo quando mi scrivete su whatsapp e poi due sei nove due sei nove voi immaginatevi prendere tutte queste queste questi cristalli questa madre perla eh questa agata questo questo smog questo onice tutto quello che c'è compreso in questa poi disegnatela poi montatela a mano e poi un esemplare così non ha prezzo non ha prezzo i due 69 è regalato andiamo a vedere cosa intendevi tu prima Cate quando abbiamo detto ma quanto è bello ragazze a vedermi allo specchio tanta roba eh sì prendiamo casualmente la 40 più o meno io la vedo uguale esatto sì prendiamo la 44 è diverso vedete perché perché la pezza è ecco prendiamo la 46 è quest'altra vedi che trasversale c'è più fucsia c'è più dipende questo il 48 ok ovviamente vedete questo ad esempio ha poco lilla ma questo questa è la 50 ragazze questo è è quello che si intendeva la sfumatura del tessuto ovviamente quando viene tagliata questo è un 50 questo è un 48 vedete che cambia la posizione delle delle varie sfumature certo che sì ma non è che uno deve stare a guardare aspetta che quello di gabrie era così sono sfumature nel tessuto il tessuto sono pezze chilometriche dove quando ricordiamo una cosa ragazze dalla 40 alla 54 dalla 40 vedete il dietro è così dalla 40 alla 54 stessa cosa avevamo detta nelle maglie quelle che ci sono qui col pezzettino più di manica vai pure tranquilla piano piano non succede niente cate questa anche questa qui veniva vedete questa la mezza così queste così cioè questa ad esempio non ha il lilla davanti magari lo andiamo a trovare nella gonna cioè non è non è dato certo che debba essere così quello che indosso è così poi tutti gli altri le varie sfumature queste le sappiamo ma sono cose diciamo successo anche nelle camice è normale no poi tra le altre cose andando su d'italia la pezza che viene utilizzata è a una metratura diversa e qui qui ci siamo ok bimbe allora andiamo a vedere ah ah io immagino già chi di voi mi scriverà su whatsapp perché è lì che dovete scrivere voglio 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 perché mettiamo ho messo questa perché questa è una e questa è l'altra va bene anche qua allora questo è quello che stiamo guardando 59 69 scontato scontato gli sconti li guardiamo dopo e questo è appena stato tagliato soccate che stai già guardando l'orologio io devo finire entro luna comunque perché è un appuntamento giusto per dirvi che questo questa giacca ha il pantalone ha sigaretta trombetta sbragato gonna ha di tutto a 59 euro svegliamo l'altro colore che è una meraviglia alla gonna guardate il questa specie di pua ma pua non è perché ha dei bellissimi spazi vedete questa è una taglia 40 dalla 40 alla 54 e lo vedete qui davanti giusto per farvi vedere che c'è qual è la soluzione ideale chi di voi ha acquistato il tailleur verde il tailleur azzurro il tailleur bianco il tailleur nero di qualsiasi genere e specie sicuramente se parliamo di questo che è quello che ci porta ad questo lo portiamo in primavera lo portiamo anche a settembre ottobre dipende che cosa ci mettiamo sopra ma per i mesi a venire sicuramente a questo tipo di giacca che dobbiamo andare ad abbinare quindi 59 euro il top che potete lasciarlo sceso così vedete o con questa dinamica che mi piace tantissimo diventa un abito longhetto portato doppiato questo volevate le gonne le gonne ci sono allora avete nell'armadio questo colore ci sta bene anche rosa per altre cose è un rosa molto particolare non è un rosa barbie quindi ha dentro dell'illa e sta benissimo vogliamo fare questo abbinamento beh facciamolo ragazze mi chiedete se si può dare solo il top o la gonna io non ho chiesto francamente ad ale ma per esumo di sì come sempre no allora bisogna dire che inizialmente partiamo a completo anche perché se no è un macello perché bisogna dire che non sono tantissimi pezzi cioè è arrivato qui da noi pomeriggio di due giorni fa cioè al nostro ale l'ha già venduto anche lui all'ingrosso vediamo se poi si potrà ritagliare qualcosa c'è previsione anche una tuta comunque non vi sto a confondere l'idea stiamo ferme su questi pezzi 99 euro la giacca 59 euro il top e 69 euro la gonna che poi ovviamente la mettete con tutto con una casacca nera una casacca bianca parliamo ancora di 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 taglier bianco qui è una meraviglia cosa possiamo dire ragazze se non chi è di facile abbinamento dimmi come Maria voleva sapere buongiorno bella la giacca quanto costa blu c'è? la giacca costa 99 euro noi blu l'abbiamo già ritagliata due volte, io credo che blu non ci sia più vero? Simona del blu di questa giacca l'abbiamo esaurita sono in ritaglio sicuramente abbiamo una qua in negozio ancora una 44 se non c'è quella non ce ne sono più la nostra amica è nuova io credo e spero sì perché se così non fosse mi spiacerebbe che hai aspettato tutto questo tempo però queste giacche c'erano blu, rosa, azzurre verdi, rosse bianche, rosa la vedi indosso a me se l'ho detta se non l'ho già detta e blu è sicuramente terminato credo che stiamo ritagliando i calcioni una cosa me la sono puntata qui perché non volevo dimenticare Vanda tu sei proprietaria di un agriturismo in Toscana e mi hai già personalmente e pubblicamente invitata a trovarti e francamente ti dico che ci penserò seriamente è passata una tua amica ha fatto acquisti e mi ha detto ti saluta Vanda da grossetto se non per essere ancora più precise quindi io ricambio i saluti ed è stato un piacere io la tua amica non sono riuscita a vederla però è venuta so che Condoni è stata contentissima te l'avrà già riportato quindi Vanda ti mando un grosso 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 bacione anche Simo che sai che mi sentite quindi Kate qua con me anche e quindi anche tutte le nostre amiche dall'altra parte ciao Vanda adesso arriva un bel periodo tosto per te immagino vabbè ragazzi questa è l'altra fantasia che vogliamo dire io ero molto ma molto ma molto incerta su quale indossare però avevo voglia di colore avevo voglia di di punto io ve l'ho detto dovete scegliere il mattino quello che fa per voi quella giornata avete voglia di fondo scuro fatelo avete voglia di colori chiari fatelo scegliete voi quello che vi fa star bene ve lo dico sempre amori miei top 59 euro gonna 69 euro una meraviglia questa fantasia guardate qui con queste palme mi fa venire voglia di vacanza di vacanza il sandalo nero bianco quello che più vi aggrada e qui apriamo la giacca giusto per farvi vedere avete acquistato questo colore l'avete nera la giacca l'avete bianca avete ancora i completi gialli e arancioni dell'anno scorso fate quello che pensate aprite aprite ragazzi aprite quegli quegli armadi andate a vedere in soffitta aprite le scatole se li avete nelle scatole aprite tutto aprite il nuovo giorno alla nuova stagione amori miei e decidete quali colore fare io questi completi li farei tutti e tre vabbè poco importa comunque le giacche che ho mostrato adesso e c'è anche nera e l'ho messa lì nelle taglie più alte hanno in abbinamento gonna palloncino pantalone poi c'è anche la tuta stiamo ritagliando per chi ce le ha chieste le taglie basse stiamo ritagliando tutto stiamo ritagliando tutto perché bam 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 questo è rimasta una 40 dei 44 46 50 52 54 sono già volati ma abbiamo tutti noi? tutti noi basta quindi sono solo questi no no ho portato su tutto c'è qualche solo qualche doppione ma le taglie sono tutte queste quello intendevo ho portato su in vrac come si dice tutto così perché altrimenti rischiamo di rimanerne senza vi dicevo perché a un passant ho preso questa 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 canotta che tra le altre cose l'abbiamo anche bianca l'abbiamo anche rosa perché qualora voi l'aveste già acquistata oppure vi piacesse più fare anche uno spezzato potete acquistare anche questa a tinta unita 49 euro e per mostrarvi che che dire se no non una meraviglia e potrebbe metterci tutto bene arriviamo ai capi da 30 euro a me viene da ridere perché se vi comprate questo questo completo vogliamo mettere il gile sopra questo gile va bene con tutto sì a 30 euro costa 79 a 30 euro buttato qui sopra e fare un bellissimo abbinamento fatelo allora adesso mettiamo da parte i capi quindi tre fantasie questa questa tropicale e questa chiamiamo così con queste bolle che non sono qua le bolle quelle che fa la mia amata le bolle dimmi Gioia Petalina vorrebbe sapere se può fare due spacchia con la gonna lì a terra lì tutto quello che vuoi guarda basta già anche così ma qualora la volesse utilizzare per andare a ballare si apre tutto si fa tutto sono cuciture quindi dove c'è la cucitura apri fai disfi tutto quello che vuoi bella secondo me è portata così perché comunque non è stretta sul fondo ha questo questo taglio che scende un po' così bella eh a me piace molto portata portata così arricciata perché ha questa rotondità che prende il fianco poi ripeto con queste guardate la morbidezza che ha sul punto più delicato di noi donne di conseguenza copre bene diversamente potete lasciarla più scesa la culisse come la manica di ieri ve l'ho fatta vedere serve a quello decidete voi cosa volete fare un pezzo solo doppia XXL quindi 50 52 54 Kate si questo top è meraviglioso che ho anch'io nell'armadio e che possiamo portare col taglio turchese con non sto a farvi gli abbinamenti ragazzi ha un top scontato a 30 euro ok 48 50 52 54 l'unico poi non è roba da poco abbiamo ancora l'assortimento di questo completo siccome è lo stesso tessuto di quelli che indossiamo di quello che vi sto proponendo oggi è stato il cavallo di battaglia della stagione precedente questa maglia è quella maglia che scende sulle spalle stupenda non segna nulla dalla 40 alla 54 scusate se è poco erano gli ultimi rimasti ma li abbiamo di conseguenza 30 euro il calzone e 30 euro la maglia qui c'è da fare man bassa ragazze qui vestiamo dalla 40 alla 54 con il il gilet 40 42 44 non possiamo fare altro possiamo però prenderlo e buttarlo sopra qualora 30 euro il gilet mi raccomando avete questa giacca potete prendere il calzone la maglia o qualsiasi altra maglia in tinta unita e fare questo abbinamento intanto capariamoci queste cose a 30 euro perché sapete che il suo prezzo è 69 euro uno e 69 euro l'altro in fantasia 30 euro e 30 euro ragazzi le fantasie sono due dimmi Kate possiamo spiegare brevemente come arrivare a noi per fare un ordine certo ci sono tante amiche nuove che arrivano da youtube che arrivano dal sito che arrivano quando loro mettono lo sai Kate che quando tu vai in qualsiasi parte anche così su google e metti Gabriele S. Abbinamento donna v v arrivano tutte le nozioni eh si lo sai hai provato certo come fai qui ci sono due numeri fissati ok se stai seguendo questa diretta presumo oppure se non lo sai vai a vederci sul nostro canale youtube Gabriele S. Abbinamento donna e ti iscrivi oppure qui sulla pagina Gabriele S. Abbinamento donna ok metti il mi piace e così poi potrai seguirci sempre diversamente lì dove stai proprio chiedendo in questo momento vedi fissati i due numeri di telefono ne prendi uno lo metti in rubrica come quando poi devi scrivere a un'amica perché poi alla fine suonava il telefono prima di iniziare la diretta potete chiamare anche il negozio e vi risponde solo la donatella che è l'addetta alle vendite del negozio su questi due numeri è come se tu arrivassi vedete qui ci sono i nostri camerini è come se voi arrivassi in camerino come tutte le clienti che arrivano da noi tengo a precisare che è 37 anni che ho questa attività quindi non sono nata ieri sono qui a rispondere di tutto quello che diamo e facciamo di conseguenza la cosa deve essere naturale semplice piacevole scrivi su whatsapp come se tu scrivessi un'amica e ciao gabriez ciao gabrie ciao ciao sono tal dei tali ho visto se riesci a fare uno screenshot cioè una ferma immagine una foto è meglio mi piacerebbe questo completo oppure ho visto il completo turchese e noi ti diciamo l'abbiamo in punto milano l'abbiamo in bengalina l'abbiamo in ci si interfaccia lì ci sono anche i vocali qualche volta qualcuno telefona magari chi è meno pratico dello scrivere e il tutto avviene lì prenditi già le misure se tu vai a vedere sulla pagina gabriezziabiliamento donna dove trovi sul sito www.gabriezziabiliamentodonna.com cioè dove ci sono tutti i video in differita tu vedi che io ogni uno due tre video prendo le misure seno circonferenza seno circonferenza vita e circonferenza fianco ok quindi ogni volta mi sembra di ripetere stesse cose ma è doveroso perché ci sono tutte le nostre amiche della nostra grandissima 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 famiglia e quindi puoi anche dilettarti a leggere lì sotto che oramai sanno spiegano anche loro e anche loro infondano sicurezza questo è quello che voglio infondere io siamo qui in carne d'ossa a Villa Carcina ok provincia di Brescia bello sapere che dall'altra parte si interfaccia con qualcuno di come dico io in carne ed ossa si vede la carne sì bene quindi quando sei lì chiedi quello che desideri con le misure giuste difficilmente sbagliamo a mandarti cose possiamo anche dirti questo non te lo mandiamo perché non ti va così bene perché noi misuriamo col centimetro sartoriale quindi sappiamo di cosa parliamo e cosa facciamo questa è un'assistenza che facciamo come se tu fossi in camerino quindi scrivi su whatsapp per farla breve a uno dei due numeri che vedi lì ok aspetti che magari riusciamo a rispondere in base alle esigenze in base alle nostre magari c'è chi risponde subito c'è chi risponde qualche ora dopo insomma attendi la risposta ok e poi quando è avviata la richiesta ti diamo tutte le spiegazioni considera che se spediamo per dire oggi domani ti arriva la merce difficilmente può capitare che impieghi un giorno di più se sei sulle isole un giorno in più però insomma ci confrontiamo e ci conosciamo dove? su whatsapp ok mi sembra di essere stata chiara Kate? sì penso di sì torniamo al completo a 30 euro pantalone e 30 euro maglia vi avevo fatto vedere il top azzurro scusate il gile azzurro e se volessimo farlo col gile arancione l'arancione abbiamo però abbiamo solo 42-44 d'altra parte il tutto tutto quello che solitamente ha questo cuore che è il nostro made in Brescia quindi prodotti a Brescia nemmeno in Italia ma a Brescia che è un comune italiano ma è tanto bello sapere che quasi chilometro a zero le ultime cose rimaste le facciamo in occasione quindi 30 euro 30 euro e 30 euro cioè questo completo con 90 euro vi portate a casa tutto ma sappiate che costava 79 69 e 69 ok? bene quindi abbiamo ancora tutte le taglie dalla 40 alla 54 che è poi quello che stavo dicendo vogliamo mettere per dire non so la nostra giacca con la martigale ero vissita ieri con questo taglio stupendo mi hanno fatto tutti i complimenti 59 euro il pantalone a palazzo e c'è anche la sigaretta la giacca con martingala stupenda che praticamente finita benissimo in più 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bottoni meravigliosi in metallo insomma ragazze volete poi prendere il calzone e dire ma per te che ho preso questo calzone con la maglia e lo abbino qua potete fare tutto quello che più vi aggrada in questo caso 119 euro la giacca e 59 euro il pantalone quindi gilet azzurro a 30 euro vi ripeto 40 42 44 gilet arancione sempre a 30 euro 42 44 che dire ragazze sono qua da vedere altra fantasia però qui devo dire una cosa che secondo me abbiamo solo una maglia possibile aspetta un attimo Sino abbiamo solo una maglia di questo? sì quindi questo possiamo fare è una XXL quindi come prima 50 52 54 ok bellissima lo potete portare e col suo completo ho detto che è calzone XXL quindi anche questo è una 52 54 bellissimo 30 e 30 ok e poi qui ci rimettiamo il gilet arancione se volete ci mettiamo il gilet verde se volete nel verde abbiamo vi dico subito poi non sono cose da abbinare espressamente così 40 e 42 questo è rimasto va portato aperto si può vestire fino a una 44 poi che cosa abbiamo praticamente L XL e XXL di calzoni qui ragazze non fatevi nessun tipo di problema perché se volete potete addirittura io trovo che questo top sfumato qui sopra ci stia d'incanto Kate e richiamo un po' tutti i colori quindi con un calzone a 30 euro che lo mettiate con il nero che lo mettiate con il bianco che lo mettiate con il verde che lo mettiate con il rosa con il lilla con tutto ciò che volete a 30 euro questo è un calzone da fare lo portate in fradito ginica in versione elegante abbiamo che cosa le camicie pesca abbiamo la camicia nera con i fori sulle spalle io ho preparato uno stand veloce ragazze però lo sapete che abbiamo di tutto e di più abbiamo il nostro top con l'incrocio quindi potete rivedere i video precedenti oppure dire anche su whatsapp ma con questo calzone a 30 euro cosa mi daresti sopra e noi boom 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 eh ragazze quindi LXLXXL e per L intendiamo un 46 48 50 52 54 questo colore parte da questa taglia abbiamo ancora un gilet a 30 euro fucsia e uno solo e abbiamo un solo calzone taglia 52 54 guardate la meraviglia in questa fantasia anche questo poi non so prendiamo la giacca nera volete metterci la giacca nera sopra la nostra camicia corallo il nostro top nero abbiamo di tutto e di più però ragazzi a 30 euro non vi faccio gli abbinamenti gli outfit io state ben attenti alle taglie e così viaggiamo tranquilli ancora un abito a 30 euro bellissimo in punto milano leggerissimo stupendo qui ci vuole un fisichino da taglia 40 ed è meraviglioso lo vedete indossato a me in un video qualche video fa comunque ripeto sito www.gabriessiabiliamentodonna.com canale youtube ed iscrivete pagina gabriessiabiliamentodonna su facebook vedete tutti i video precedenti mettete la sezione video e andate a godervi ore 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 di non andate indietro tantissimo perché magari poi non abbiamo più i capi però poi potete chiedere è rimasto ancora un abito così con le gocce meraviglioso cat 42 44 anche 46 a seconda di come è fatta la cliente e il seno che ha il punto vita che ha dipende se è minuta sopra è più magari morbidina sotto perché questo è in crepe è meraviglioso a 30 euro costava 79 l'ultimo rimasto cat non ne abbiamo più neanche giù no è finiti 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 questa è una L ma possiamo vestire un 46 48 50 no con questa L sì lo gestite voi perché praticamente aprendo questo fiocco lo portate sì e no più scollato con questa manichina così per dire noi l'avevamo venduto anche così che era molto 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 bello con il gilet portato aperto lo vedete anche su una nostra modella per un giorno che abbiamo postato ultimo abito palloncino ma proprio l'ultimo che ne avevamo una serie particolare 30 euro è la bengalina estiva in più questo ha la zip poi ragazze sapete che sono arrivati quelli nuovi nel blu nel bianco nel nero nel rosso in questo caso questo colore a 30 euro vi svelo che stiamo cercando di rifare i calzoni rifare gli sbragati che ad alcune stiamo dicendo che non abbiamo più le taglie basse li riproduciamo stiamo aspettando mercoledì che arriva la bengalina indovinate in col colore rossa per ritagliare e forse anche beige la tuta avete presente la tuta che ho mostrato l'altro giorno bene se riusciamo anche beige e anche rossa io lo so già che è rossa lo sapete anche voi Kate adesso quando abbiamo la conferma che è arrivata il tessuto poi va al taglio e nel giro di una settimana la avremo ok Kate però lo svegliamo le nostre amiche taglia 54 giusto per dire che c'è quindi il calzone sotto scusate la gonna sotto a 69 euro che è il completo che indosso io esattamente uguale ma abbiamo anche dalla 40 fino alla taglia 54 quindi mostriamolo visto che lo abbiamo mostriamolo e avete già acquistato oppure no vi manca questo colore fatelo con questo abbinamento mettete il verde mettete sicuramente la giacca nera vedete bellissimo poi con i bottoni dorati che richiama il giallo delle foglie mettete la giacca bianca sicuramente perché è fantastica quindi chi di voi ha fatto già queste giacche non hanno nient'altro da fare che abbinare un colore l'altro o quell'altro qui vediamo il completo nell'altra fantasia bolle chiamiamole così perché non sono assolutamente può e a questo punto giacca anche questa taglia 54 nera bianca che sia oppure come abbiamo anche visto possiamo fare anche questo abbinamento in questo colore abbiamo tagliere sbragati di tutte le più carte che ora abbiamo fatto 20 all'una perfetto quindi vi ricordo tutta questa serie di capi a 30 euro ok quello che indosso io e vado di nuovo a togliermi la giacca che è a 99 euro il completo bellissimo io l'ho portato arricciato vedete qui e mi piace tantissimo indosso una 42 perché trovo che è portata anche leggermente morbida questa gonna scesa così sia meravigliosa ma è quell'articolo che possiamo portare veramente andando avanti nella stagione e ce lo mettiamo tutta l'estate quindi la sera zazà poi in valigia questi capi qui guardate stanno in cioè prendiamo la gonna taglia 54 oltre a essere freschissima perché è un jersey di viscosa guardate sta in una mano e quando voi la potete schiacciare quello che volete la aprite la viscosa tende magari leggermente a stropicciarsi ma questo con questo poi è morbido cate potrei dire morbidoso ma ormai era un aggettivo che usavamo per l'inverno coccolosa sì è molto è molto tessuto manupesca molto 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 ma molto bella quindi che dire ragazzi avete la possibilità veramente di fare le vostre varianti varianti che sono stupende portate anche guardate ad esempio la nostra Doni come ha pensato di organizzare questo abito che è quello che indossavo io l'altro giorno in fantasia nel rosso e nel nero guardate l'idea della goccia dietro meravigliosa adesso magari al prossimo giro vedrò che cosa magari vi indosserò il rosso così lo vedrete perché comunque le cose indossate fanno sempre tanta 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 differenza vero Kate sì ecco se avete necessità di qualcosa facendo un giro in negozio ricordiamo gli abiti a palloncino che sono una delizia e sono una meraviglia portati con una ginica abbiamo tante amiche nuove perché non farli vedere blu bianco rosso e nero la tuta ah sono due i palloncino e due gli abiti Kate c'è anche la S non avevo visto quindi sarebbe utile prenderli tutti e metterli sullo stand quindi ne abbiamo ancora alcuni sempre comunque in taglie basse l'abito è sempre una 52 quindi ne abbiamo due e questo abbiamo S quindi 42 44 46 poi anche con l'altro Kate dai arriviamo con una L a coprire una 48 50 ecco misuriamo perché è svasato però ecco mi raccomando ragazze fate sempre quello che vi ho detto quindi prendere le misure e girarcele poi noi vi diciamo sì no andiamo un attimo a far vedere adesso che mi viene in mente le varie abbiamo anche questa in fantasia uguale per chi volesse magari l'incrocio così maglia leggermente più lunga o comunque mi viene anche l'idea cioè su questa gonna si può mettere anche per dire vedete questa questa camicia bellissima che scende di spalle veste molto ma molto pensate che questa è una 40 veste molto ma molto ma molto bene bella scesa così bella portata a monospalla scegliete voi come portarla c'è questa e c'è quella con il con il foro sulla manica che vado a prendervi perché anche da abbinare sui calzoni che vi ho fatto vedere prima c'è anche questa che è deliziosa così bianca e nera i calzoni a 30 euro che vi ho mostrato ragazze li abbinate con questi articoli Kate posso far vedere questa che è una meraviglia stavo cercando dove era il nero e non lo so perché abbiamo spostato tutto qui facciamo sempre il giro di tutte le cose dove? dove hai preso l'altra qui dietro ci gira gira eccola gira 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 facciamo vedere la 52 questa c'è bianca nera e corallo questi tre colori li possiamo andare a mettere su tutti i calzoni su tutte le gonne che vi ho fatto vedere finora quindi ha tinta unita 59 euro perché sapete che l'unito costa sempre quei 10 euro in meno non volete il top smanicato? abbiamo tutte queste casacche da potervi accontentare e ecola diciamo smanicata e con questo discorso così di arricciatura scesa che è bellissima vedete che l'abbiamo bianca nera e sempre i colori sono tre ok e poi ci possiamo girare tutto quello che più ci piace e il pantalone scollato e diciamo la gonna che indosso io e devo dire che merita anche portato così se c'è qualcosa che le nostre amiche ci vogliono chiedere altrimenti possiamo anche beh facciamo vedere bianca facciamo vedere i manichini ok siamo a tempo sì cate sì sì sono un quarto adesso perfetto bianca bianca la portiamo su tutto quindi in questo caso sì vero guardiamo che abbinamento meraviglioso questa è l'altra nostra casacca che posso andare a prenderla cate scusami perché abbiamo anche l'abito che non vi sto mostrando da qualche giorno ma è fantastico quindi questa è la casacca che abbiamo abbinato questa praticamente esce alla spalla fa da manica vedete che abbiamo abbinato sotto questo bellissimo tieure che è il nostro tieure in crepe con i tre bottoni con i pantaloni a zampetta quindi guardate quanto sta bene il nostro giurello per la vita meraviglioso ma facciamolo vedere ragazzi 2,99 questo è cristallo onice tutto sapientemente montato a mano che dire una cascata di meraviglia i nostri gioielli perché per la vita perché durano nel tempo le lascerete in eredità alle vostre nipoti alle vostre figlie abito stupendo 99 euro anche questo lo vedete sulla pagina e su dove vi ho detto Gabriele Sabigliamento Donna vedete i video in differita e li vedete proprio tutti meravigliosi vieni che vediamo da questa parte da là che meraviglia che colori stupendi e che abbinamenti meravigliosi pantalone sigaretta per vinca la nostra camicia di cotone quella con la punta più scesa stupenda e meravigliosa giacca con il rever bellissima un bottone più corta meravigliosa anche quella io adesso non vi sto a dire le taglie ragazze perché qui sono un po' disassortiti dovete chiedere su whatsapp e sveleremo il tutto ma quanto sta bene per vinca con l'arancione e anche con il verde avete un'idea della meraviglia di questa stola a 20 euro e le nostre caramelline abbinate così il nostro fiore è delizioso dai 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 vogliamo dire qualcosa facciamolo ieri abbiamo riassortito i fiori vero? sono arrivati i bianchi e rossi che tanto aspettavate tanto aspettavate claudia chiede giacca rossa e mengalina avete qualcosa? eccola presente in questo caso vedo 40 44 46 54 quella che ho appena tolto qui abbiamo il pantalone a trombetta pantalone a sigaretta e il pantalone sbragato questo è quel tessuto che da adesso in poi e attenzione abbiamo l'abito a palloncino e ancora probabilmente arriva la tuta che la tuta è questa facciamola vedere qua nel bianco opla si sta scivolando giù ecco nel bianco sarà questa ok che vedremo sviluppata presumo hanno fatto richiesta dovrebbe arrivare mercoledì il tessuto la bengalina rossa perché questa tuta rossa l'avete stra stra chiesta forse anche la cristiana l'aveva chiesta vabbè non posso ricordare tutto però insomma 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 chiedete e poi noi ovviamente vi mostriamo quando è poi c'è Daniela che scrive bello l'abito ma per sirenetta questo sirenetta cosa se c'è la taglia 54 assolutamente no da sfatare tutta questa cosa che stai dicendo perché con una 54 ah ragazzi questa 54 qui sta molto eh ce l'abbiamo là eh no eccola qui allora questa 50 questo abbinamento qui volevo farvi vedere che sta molto bene portato anche con il nostro giacchino rosa magari ve lo abbino ah no adesso qui non c'è più ma lo abbiamo giù nel nostro fornitore eh assolutamente no perché questa è una gonna taglia 54 scusa se è poco perché il doppio si può dire di quello che indosso io in questo momento quindi direi assolutamente direi assolutamente di no eh puoi sempre prendere un cardigan e la giacca ad abbinare sopra al top perché avete visto che con la giacca tutto sparisce tutto diventa sinuoso diventa un'amalgama col fisico quindi andiamo a nascondere quello che può essere eh i difetti che tutti abbiamo può essere portata scesa o arricciata così come sto eh indossando io io ragazzo ho una 42 non posso diventare una morbidosa ma possiamo vederlo su Marina che doveva essere qui oggi ma poi non ci siamo capite su una cosa settimana prossima o mercoledì o venerdì la avremo e glielo faremo indossare a una 54 puoi andare a vedere anche il video che abbiamo fatto con lei taglia morbida tutto quello di cui io parlo dalla 40 alla 54 l'abbiamo disponibile così come abbiamo disponibile per dire la tuta quella che ti ho appena menzionato non so che taglia abbia la nostra amica ma taglia 54 le stiamo stra 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 lavorando fatti chiediti di vedere quello con le bolle ecco quello con le bolle è esattamente uguale a quello che ti ho fatto è là ho appena fatto vedere adesso sullo stendino è la 54 se vuoi ci torniamo è là è là quindi stessa cosa di quella che ti ho fatto vedere se dico che è 54 tesoro fiderti di me è una 54 poi ovviamente non può essere una gonna arricciata ma tanto meglio deve seguire un pochino il corpo io indorso una 42 è morbidissima qui possiamo scenderlo ma vedete cioè ragazze è così c'è anche ad esempio l'altra ci sono tanti abbinamenti da fare sopra io in questo caso scusami Kate ho anche detto e potrei anche farlo un secondino indosso un attimino questa il colore è perfetto mi aspetti un attimo che la indosso la nostra amica faccio vedere le cinture intanto ecco scusate un attimo che arrivo e vi faccio vedere magari portata come si può portare è una una casacca diversa per altre cose adesso io ho vediamo un attimo il bode nero sotto però togliamo la spallina eccola qua allora facciamo così io sto indossando una 42 di questa casacca questo è un fiocco che se qualora io tolgo il gioiello per la vita possiamo annudarla dietro al collo oppure fare anche così oppure toglierla perché ha un passantino a me questa casacca piace portata così vogliamo fare così? cioè cos'è che non quadra in questo completo? nulla sia dalla taglia 40 alla taglia 54 ok? quindi il top lo puoi utilizzare sotto al tailleur per dire che ha il pantalone sbragato il pantalone sbragato cosa vuol dire? è questo per dire no? magari è una stannica nuova questo pantalone sbragato è una taglia 54 cos'è? l'avete visto indossato bianco a Simona l'altro giorno non segna nulla lo prendiamo nella taglia giusta vedete? cioè voglio dire la dinamica ci sto in una gamba quindi questo con la sua giacca taglia 54 e il top che indossavo prima oppure quest'altro e il gioco avviene come per magia tutto si può fare basta che ognuna di voi sappia e conosca i pochi difetti magari ci dite le vostre impressioni dicendo sai a me piace una cosa più associata a me piace una cosa più morbida poi noi dalle misure capiamo subito circonferenza vita circonferenza seno la vita è quella che ci dà la descrizione migliore vedete si può portare anche a monospalla si può portare anche su quindi fate proprio quello che più vi aggrada anche solo una spalla giù bellissima e ovviamente anche rimborsata più corta che dire sta bene no ogni volta che cambiamo un attimino il modello questa c'è bianca c'è nera e c'è questo colore pesca quindi nera la possiamo pensare di metterla anche ci chiedeva la nostra amica scusa di vedere questo con le bolle e qua quando dico taglia 54 taglia 54 è cioè per altre cose l'elasticità è questa no taglia 54 le nostre amiche portano anche questo abito meravigliosamente bene poi c'è chi lo porta in ciucciato c'è chi vuole mettiamoci sopra una giacca a 7 ottavi arriveranno dei gilet in georgette cate gilet in georgette nero e bianco per cui lo si potrà buttare sopra a tutto abbiamo il mondo qui il mondo bisogna solo dire io voglio questo abbinamento io voglio quest'altro io voglio far così io voglio far quella tatatatatata tatatatata sto facendo lo swing quasi da golf dove dovete scrivere dove dovete arrivare a noi eh su whatsapp i numeri li vedete lì tutto quello che sto facendo vedere anche per dire questo abbinamento direi che sta alquanto bene pantalone dalla L alla doppia XL quindi 46, 48, 50, 52, 54 a 30 euro possiamo mettere la maglia bianca possiamo mettere la maglia nera possiamo mettere la maglia corallo ma abbiamo tantissime altre camicie casacche che stiamo facendo vedere giornalmente cosa dici Kate? quando mi fai così dalla 40 alla 54 lo ricordiamo le nostre amiche si gestite voi questa maglia andrebbe portata così con il fiocco allacciato dietro qui portata così esalta ancora di più questo gioiello per la vita che dite? bello si stra bello bene ragazze io vi saluto oggi è? venerdì? venerdì fate una cosina questo video oggi leggermente più breve e avete visto tutte queste occasioni avete visto questi abbinamenti che sono strepitosi mercoledì ne abbiamo fatto un altro lunedì ne abbiamo fatto un altro venerdì precedente andate a vedere quella se no una decina di video indietro avete 15 ore di video da vedere se volete e guardate i dettagli guardate le cose abbinate sono state abbinate in taglia più piccola in taglia più grande sono state abbinate anche a persone diverse fate questo dilettatevi se avete voglia se no divertitevi fate quello che volete ci seguite la sera come fate sempre insieme ai vostri compagni e siete numerosissime numerosissimi io sono qui per tutte le domande per tutte le spiegazioni per tutte le info per i vostri ordini dove? sempre assolutamente esclusivamente su Whatsapp i numeri sono lì belli chiari li trovate sotto a tutto andate sulla pagina Gabriele Sabigliamento Donna sul sito trovate tutti i tasti che vi riportano a noi e nelle indicazioni io vedo che lo faccio tutti i giorni quando mi devo muovere su Google chiedo una certa non so al negozio tac mettete Gabriele Sabigliamento vi dice dove siamo che ora apriamo mettete la posizione arrivate direttamente perché siamo in fisicità a Villa Carcina con un negozio aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 quindi anche se venite da fuori regione uscite al casello dell'autostrada di Ospitaletto seguite per la Valtrompia e arrivate qui vi ho dato tutte le nozioni per dirvi che siamo qui presenti a seguirli proprio quando si dice in carne ed ossa è qui abbiamo una testa due mani quindi cerchiamo di fare tutto il nostro possibile aspettate che noi rispondiamo a volte lo rispondiamo prestissimissimissimo questi capi a 30 euro sono qui che vi aspettano e tutto il resto anche quindi stavo dicendo buon weekend dimmi Cater è un per domenica per la festa della mamma ah si amore sai che io non vado mai lunga cioè io vado lunga per tantissime cose ma magari pecco in queste allora che cosa dobbiamo dire per la nostra festa ragazze a chi è mamma a chi non lo è a chi avrebbe voluto esserlo a tutte quante potremmo dire festa della mamma festa della donna si Cater è vero o no ci tieni certo perché non sa Cater altre bimbi io sono nonna di due bambine meravigliose sono anche mamma orgogliosa e fiera cosa devo dire chi non ha provato questa emozione questa sensazione questi problemi anche perché insomma i figli sono un pezzo di coro ma sono anche tanta io ricordo che quando Simona tutti i passaggi no dall'inizio dell'asilo alla scuola l'altra cosa sono tutti i fattori di ansia per noi mamme che anche se sembriamo strong tutti questi cambiamenti pesano pesano anche per noi per doverli seguire perché e poi come dico sempre scusate bambini piccoli problemi piccoli bambini grandi problemi grandi io non so se questa cosa voi la sentite ma secondo me sì diciamo che sono pensieri diversi quindi noi donne in primis perché nasciamo donne nasciamo bimbe femmine donne mettiamo ecco perché dobbiamo valorizzarsi ragazze valorizzarci se poi sbocciamo e abbiamo la fortuna di essere anche mamme e beh diciamo che tanta roba eh eh tanta 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 roba quindi auguri a tutte le mamme anche se io mi sento di dirlo a tutte le donne Cate perché è un equivalente quindi domenica aprite i vostri armaggi aprite aprite le finestre al sole anche se piove createle voi il sole ma credo che ci sarà il sole ok quindi create il sole dentro di voi e scegliete scegliete quello che più ma anche se vestite nero mettete un accessorio mettete una spilla mettete una calzatura mettetevi un rossetto guardatevi allo specchio e dite auguri a te auguri a te poi avete chi vi ricorda tanto meglio sicuramente se non c'è nessuno ricordatevi da sole ragazzi e voletevi bene perché io quello che dico sempre vogliamoci bene siamo importanti eh siamo molto importanti senza di noi Cate cosa farebbe questo mondo senza di noi eh lo dici eh cosa vuoi che ti dico ti senti importante certo che mi sento importante sentiamoci importanti sempre ok amori poi mettetevi un capo scontato a 30 euro sarete bellissime perché sono tutti i capi che hanno la stessa qualità di quelli appena tagliati io così mi sento benissimo mi piaceva molto l'idea del top sinuoso quello che è la giacca sopra scegliete voi anche un giubbino jeans mando le chiacchiere ragazze vi aspettiamo dove su su whatsapp oppure in negozio se volete venire eh a trovarci di persona ok intanto vi bacio vi abbraccio godetevi questo weekend noi ci vediamo lunedì e se volete ci vediamo tutti i giorni tutti i momenti tutte le sere quando volete andate sui video indifferita e li trovate alla vostra Gabri che bla 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 vi fa anche addormentare ok amori miei vi voglio un mondo di bene ciao donne auguri